Adesso però apriamo un capitolo molto molto importante perché parliamo di Parkinson, una malattia che insomma sicuramente molti conoscono ma anche pochi possono riconoscere, sanno riconoscere molte volte, eppure colpisce 5 milioni di persone nel mondo, 300 mila pensate soltanto in Italia. Vi faccio vedere ancora qualcosina come per esempio i casi che sono purtroppo in aumento, 6 mila nuovi casi ogni anno fino al 2033, questa è una previsione e la metà viene colpita in età lavorativa. Ne parliamo con un ospite, Monica a te. Noi parliamo con il professor Roberto Eopra che è vicepresidente della società italiana Neurologia della Fondazione Besta, grazie intanto per essere con noi professora Eleopra. Abbiamo visto quanto sia importante l'incidente di questa malattia, tra l'altro domani si celebra la giornata mondiale per conoscere il Parkinson. Allora conosciamolo il Parkinson perché molto spesso questo nemico silenzioso entra dentro di noi e noi non siamo in grado di riconoscerlo. Ci può dare, senza ovviamente allarmare le persone che stanno a casa, qualche segnale che ci deve far suonare un campanellino? Certo, la malattia di Parkinson è una malattia degenerativa, quindi vuol dire che alcune zone del cervello invecchiano un po' precocemente, soprattutto alcune zone che producono una sostanza che si chiama dopamina. Sappiamo molto in questi ultimi anni di come in realtà ci sia anche un effetto di deposito di questa sostanza un po' tossica che può espandere l'evoluzione della malattia, però è una malattia che colpisce dai 55 ai 65 anni tipicamente, ma abbiamo sempre più casi anche di esordi in età giovanile, in età giovanile cioè al di sotto dei 45 o 40 anni, casi addirittura di 18 anni o di 20 anni che hanno queste forme, che generalmente hanno una predisposizione genetica o ereditaria. È una malattia che determina, il sintomo più evidente per le persone è un aumento della rigidità, un rallentamento nei movimenti e soprattutto il tremore che è il sintomo che allarma e questo è quello che si dicono i sintomi motori, cioè i sintomi della malattia che rendono evidente che fanno andare la persona dal medico. Però quello potrebbe essere troppo tardi? Quello potrebbe essere troppo tardi nel senso che nel momento in cui questi sintomi si manifestano già un 50-60% dei neuroni che producono dopamina sono persi, per cui effettivamente si dà molto attenzione a quelli che sono i sintomi premonitori o premotori della malattia che ahimè sono molto vaghi perché corrispondono generalmente a una certa apatia, a una riduzione dell'iniziativa motoria che in una persona che nella fase di pensionamento o di fine lavoro nel genere essendo l'età quasi coincidente col pensionamento viene interpretata come una sorta di depressione o di calo del tono dell'umore, ma se questo si associa a una riduzione della mimica facciale, una riduzione dei movimenti, questo deve sempre far sospettare, quindi bisogna andare dal neurologo, dallo specialista che può effettivamente fare una diagnosi precoce di questa malattia, anche perché se curata bene e in fase iniziale sappiamo che evolve meno rapidamente rispetto a chi non è trattato. Così come sappiamo che una qualità di vita ideale, cioè un'attività fisica costante, movimento, il ballo, la danza, il canto, sono tutti fattori che rallentano l'evoluzione della malattia e quindi è molto importante adeguare anche questi stili e questi regimi di vita in fase precoce accanto alla terapia per dare un'ottima qualità di vita. Senta professore, è vero che ancora non si è capito dove si accende purtroppo questa malattia, è anche vero, vogliamo provare a dare qualche speranza a casa, che la ricerca sta facendo tantissimo e che ci sono delle nuove tecniche, non vogliamo dire di cura, come le vogliamo chiamare, che però possono veramente aiutare tanto le persone malate a casa? Allora io voglio dare un messaggio positivo, cioè in questa malattia abbiamo veramente tante ricerche già anche sull'uomo che ci hanno portato addirittura a ipotizzare la possibilità di fermare la malattia, di rallentarla ma di fermarla. Sappiamo tanto dalla ricerca, sappiamo tanto che si producono delle proteine anomale e ci sono già degli studi, delle sperimentazioni in cui anticorpi specifici contro queste proteine potrebbero determinare un rallentamento, un arresto della malattia. Quindi mai come in questi ultimi due anni effettivamente la scienza ha fatto così tante scoperte che è possibile pensare a ciò che era impensabile fino a 4-5 anni fa. Quindi io penso che dal 2020, tanto per dare un messaggio positivo, si possa pensare in termini veramente diversi per queste malattie neurodegenerative. Quindi la speranza è che la ricerca continui e che vada in questo ambito. Fermo restando che abbiamo anche tante cure quando la malattia non viene più controllata dai farmaci. Abbiamo la possibilità adesso di fare interventi neurochirurgici, applicare dei neurostimolatori e quindi laddove la terapia medica non fa più effetto o non dà una qualità di vita ideale, è possibile pensare a delle terapie alternative. Anche perché insomma anche l'aspetto psicologico di queste malattie neurodegenerative è sicuramente da tenere in grande considerazione, non soltanto delle persone, dei pazienti ma anche delle famiglie. Hanno in qualche modo bisogno di trovare degli interlocutori che le possano accompagnare in questo percorso anche di cura? Questo è giustissimo e tant'è che anche il Ministero della Salute nel Piano Nazionale delle Cronicità che ha coinvolto tutte le regioni a applicare questi percorsi ha messo il Parkinson come una delle malattie di riferimento e su questa è molto importante sia nella fase iniziale della diagnosi e quindi della presa e della consapevolezza della malattia ma anche nella fase del percorso del cronico di questa fase seguire attentamente l'aspetto psicologico, la motivazione e i familiari e il caregiver nel seguire un percorso che sia omogeneo in tutte le sue fasi. Quindi questo è un elemento di pari significato similarmente alla cura che deve essere fatta. Anche perché insomma visto che inizia davvero purtroppo in un'età che ci sembra avanzata ma che avanzata non lo è visto che la nostra popolazione va invecchiando bisogna stare veramente tanto vicino a queste persone che possono ancora dare tantissimo alla società. La ringrazio professor Roberto Leopra vicepresidente della società italiana neurologia anche della fondazione BESA grazie davvero per essere stato con noi per avere acceso anche una speranza sicuramente in tante persone che ci stanno seguendo a casa. Milo torno da te. Monica Sira.